Fa rumore con il martello mentre segue alcuni lavori in casa e scoppia la lite nella palazzina Ater. È accaduto in via 25 Aprile a Sulmona dove si è sfiorata la rissa e si è quindi reso necessario l'intervento della squadra volante del commissariato per riportare la calma tra gli inquilini che stavano venendo alle mani. Tutto è cominciato quando un 54enne stava spostando alcune mattonelle all'interno della sua abitazione ma detta dell'inquilina del piano inferiore faceva rumore. La figlia della donna si è quindi recata nell'abitazione del 54enne a quel punto è scoppiata la lite. L'uomo ha riferito di essere stato aggredito in casa mentre la donna ha spiegato di aver solo invitato il 54enne a non far rumore per rispettare il diritto a riposo delle persone. Sono lavori che ho concordato con il tecnico dell'Ater. Queste persone che nemmeno risiedono nella palazzina devono finirla di sentirsi padroni. Si sfoga l'uomo con i poliziotti. Diversa la tesi della donna secondo la quale dopo averlo invitato a regolare il rumore il 54enne si è messo a urlare creando scompiglio. Sul posto è quindi intervenuta la polizia che ha ascoltato le varie testimonianze. Una vicenda che avrà probabilmente uno strascico giudiziario dal momento che l'uomo presenterà una denuncia. Sul posto sono intervenuti perfino vigili del fuoco per aprire la porta del 54enne rimasto accidentalmente fuori casa dopo la lite.